Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Oggi è mercoledì 28 febbraio. Ascoltiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, dal capitolo 20, versetti 17-28. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scrivi che lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché si è schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Allora si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualche cosa. Egli le disse, che cosa vuoi? Gli rispose, di che questi miei figli siedano, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù, voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo. Ed egli son giuse, il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù chiamateli a sé, disse, i capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Gesù sale verso Gerusalemme. Gerusalemme è legata in modo particolare alla storia della salvezza. E' la città del Tempio Unico, lo troviamo nel Deuteronomio capitolo 12, dove viene offerto il sacrificio della Pasqua e dove scorre il sangue che purifica i peccati del popolo di Dio. E' la città dove Dio è presente e ogni israelite tende a salire per l'unione mistica col suo Dio. Gesù, come ogni povero di Yahweh, intraprende il suo cammino in modo assenzionale, che però non si fermerà alla città terrestre, ma attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, entrerà una volta per sempre nel Santo dei Santi, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Al centro della storia del mondo sta un agnello che viene ucciso. La croce è il fondamento e l'inizio di ogni dispiegamento storico, ma non è solo Cristo. Saliamo. E' Cristo i discepoli, Cristo e la Chiesa, Cristo e ciascuno di noi. Ma noi dietro a Cristo, sul suo comando, nella sua grazia, che si dispiega nell'imperativo che esige non discorsi, ma una docilità silenziosa. Si sale assieme, ma è l'ora del Figlio dell'uomo. C'è una profonda unione che non sopprime la distinzione tra Lui e noi. Cristo, l'onto del Signore, pur nella massima comunione e identificazione con noi, rimane sempre il Figlio unico in rapporto continuo al Padre. Lui è Lui solo e al centro della creazione e della storia. O Redentore nostro, Signore, Dio di verità, che hai redento il genere umano, schiavo del peccato, non con oro e argento, ma col tuo prezioso sangue, sei il nostro protettore. Guarda la nostra miseria e, poiché la tua dolcezza è grande, verso di essa eleva i nostri desideri e stimola il fervore della nostra anima. Amen. Buona giornata a tutti.